chi sei? chi sei tu? questa è camera mia che giochi? formula 1 ah ma che devi fare? ah niente è un gioco di corse giochi a fortnite? no ah il fortnite è il gioco peplo della vita ok tu ci giochi a fortnite? no tu non ci giochi perché sei scarso non è vero sono fortissimo ma allora giocaci no? no mi annoia ma questo gioco è noiosissimo mi fa sempre la stessa cosa se lo dici tu sei scarso questo gioco perché non giochi a fortnite? no ho detto no n o posso provare? ok 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 tieni tieni va bene questo gioco fa schifo beh sai come non è facile la prima volta devi allenarti devi migliorare per essere sempre migliore un po' come fortnite giochiamo a fortnite? no perché insisti? e io io non ho la playstation ah e come ci giochi a fortnite? sull'iphone di mamma ah capisco va bene mi spiace giochiamo a fortnite? no hai la switch? si è di mio fratello giochiamo a fortnite? no ma è di là la switch? no è di mio fratello posso giochere a fortnite? va bene va bene gioca a fortnite posso stare qui tutto il giorno io me ne vado va bene gioca a fortnite quanto vuoi fa quello che ti pare non ce la faccio più non mi rompere più i bulloni perché ridi? no niente